Non è più incedibile il difensore della regina Davide Bertoncini. Dopo la porta in faccia, sbattuta a Salvatore di Somma qualche settimana fa, si sono fiondati altri tre club sul classe 91 degli Amaranto e i calabresi potrebbero adesso decidere di cedere. Oltre al Catanzaro, nelle ultime ore si sono infatti fatte avanti anche Catania e Alessandria. Asseglie Uvestabia Parma per il prestito di Francesco Golfo, attaccante 26enne. 153 presenze e 44 reti in carriera per l'esterno offensivo, sgusciante dal baricentro basso, cresciuto calcisticamente nella Pianese e che ha vestito anche le maglie del Trapani in Serie B e del Potenza in Serie C. Filippo Berardi alla destra 23enne è pronta invece a lasciare la Vibonese con direzione Cava dei Tirreni. Il pressing di Giacomo Modica, suo ex allenatore con i calabresi, sembra essere andato a buon fine. La Vibonese si consolerà con Rafa Mugnoz, difensore spagnolo classe 94 del Gubbio, che è finito nel mirino del neotecnico Angelo Galfano. A Potenza potrebbe arrivare dall'Atalanta l'estremo difensore Roberto Taliento, rientrato dal prestito al Sud Tirol, e approdare anche l'attaccante Alessandro Comi, nell'ottica di uno scambio con la Pro Vercelli, alla quale andrebbe il centrocampista Alvaro Iuliano. Ha trovato una nuova porta da difendere anche un altro ex Avellino della scorsa stagione. I guanti di Alessandro Tonti, 14 presenze con Ignoffo e Capuano, sbarcano a Ravenna, dove il giocatore ha firmato un biennale.